Tra i partecipanti al webinar di oggi abbiamo un gruppo di sicurezza privata che è Italpol. Io stesso sono stato otto anni in polizia, Marco, quindi ci fa piacere sapere che Milano, che oltre a una città di finanza, abbiamo visto che è anche una città d'arte, di cultura, abbia una sicurezza attenta. Se ci racconti questa tua nuova avventura. Intanto grazie, mi fa piacere aver avuto il vostro invito a questa interessante iniziativa, un momento di confronto che vede diversi colleghi e poi vede le realtà vive della città, perché è appunto una città, un corpo che vive e oggi sempre di più, ma in questi anni, nelle diverse esperienze, ho avuto anche la fortuna appunto di vivere, di esercitare, come ricordavi, il fatto di incrociare le istituzioni, i cittadini privati, quel modo di essere impresa nella nostra città è fondamentale. La sicurezza è un ambito molto importante, qualche volta appunto rischia di non essere visto come determinante per costruire delle azioni forti di sviluppo nella città, ma poi nel momento in cui ci sono alcuni problemi torna ad essere all'attenzione di tutti i cittadini. E questo quindi io penso che avete fatto bene a porre e mettere un po' nel panel anche un intervento di questo tipo e provare ad avere un'attenzione. appunto perché la sicurezza è una condizione fondamentale per creare quelle condizioni in cui cittadini e imprese scelgono di stare, di vivere, di investire in una città, in un luogo. E quindi il lavoro che tutti possiamo fare per migliorare la sicurezza reale, la sicurezza percepita, è fondamentale per creare quelle condizioni di investimento e di sviluppo. E' un bisogno dei cittadini e delle imprese per poter svolgere bene la propria attività, sia la sicurezza intesa come sicurezza nelle strade, sicurezza come prevenzione dei reati, ma anche sicurezza come condizioni di legalità. Perché chi investe, chi mette risorse umane e risorse economiche, ha bisogno anche di condizioni di legalità, in modo che chi sceglie e chi giustamente investe in legalità, non sia in qualche modo scoraggiato da presenze che invece non seguono questo, scelgono di stare in un tessuto di ombra e di non rispettare le regole, che sono poi uno degli elementi per mantenere il presupposto della democrazia e dello sviluppo. Quindi questo in generale. Ma certamente io aggiungerei a questo, ed è una riflessione che stiamo facendo, abbiamo fatto anche una settimana fa proprio da oggi con il ministro Lamorgese, col prefetto e il questore di Milano e anche il procuratore della Repubblica di Milano, presso il Tribunale di Milano, proprio su anche i tempi particolari che stiamo vivendo. Un tempo in cui in questi ultimi due anni, da una parte abbiamo visto le relazioni fisiche assenti o difficoltose, che vuol dire, tutti noi sappiamo quanto vuol dire che vivere le emozioni nelle relazioni con le persone sia fondamentale, e quindi noi tutti soffriamo dal fatto di poterle e averle vissute in questi due anni in maniera limitata o comunque frapposta con strumenti come anche quello che stiamo utilizzando adesso, che può essere molto utile in tanti casi per superare le distanze e dare contemporaneità, ma ci fa rimpiangere anche la relazione fisica, è fondamentale. Ma dall'altro anche la preoccupazione del futuro. Questi due anni ci danno una condizione di forte preoccupazione al futuro e ripensare il nostro essere e vivere in una condizione di fragilità. Cioè la pandemia ci ha rimesso sotto gli occhi in cui un po' di delirio di onnipotenza che tutti vivevamo non è reale. E quindi il confrontarsi col limite, con le difficoltà, ci deve far vivere appunto meglio. Del resto riconoscere un limite vuol dire capire come vivere meglio lo spazio che ci è dato da qui al limite. Ecco, ma non vorrei andare molto inseminato, ma tutti noi sappiamo quanto questo è fondamentale. Quindi il valore della sicurezza, il tempo speciale che stiamo vivendo, i due anni vissuti, gli scenari di apertura che possiamo vedere, ma anche la consapevolezza di sapere che noi tutti siamo in un contesto dove dobbiamo fare i conti col limite, con la fragilità delle nostre persone, delle nostre relazioni e delle imprese. Ma se la viviamo bene, la fragilità e il limite diventano strumenti per essere ancora più forti e solidi. E penso che questo dobbiamo impararlo e probabilmente forse in qualche occasione ce ne eravamo dimenticati. E tutto il tema dell'ambiente ce l'ha messo molto in chiaro questo. E quindi penso che le cose siano collegate, le vedo collegate. Ma qual è la città per essere e sentirsi e vivere sicuri? Allora noi abbiamo i luoghi. I luoghi nella sicurezza sono fondamentali. I luoghi pubblici, le strade e le piazze dei nostri quartieri. Ma le strade e le piazze dei nostri quartieri sono circondate dalle case, dai luoghi dell'abitare, dai luoghi degli incontri, dai luoghi del divertimento, dai luoghi della cultura, dai luoghi del lavoro. Quindi non possiamo pensare che la sicurezza delle strade e delle piazze non sia connessa con la qualità dell'abitare, la qualità degli spazi del lavoro, la qualità degli spazi del vivere, dell'incontrarsi, del relazionarsi, del divertirsi, del fare cultura. E quindi se noi dobbiamo rendere i luoghi pubblici per antonomasia, le strade, le piazze della nostra città, i luoghi dove ci incontriamo, dove viviamo, ma che poi sono anche i luoghi del verde della nostra città, ma come i luoghi della mobilità della nostra città, allora dobbiamo certamente invocare di avere il controllo attraverso le persone, le telecamere e insomma anche appunto col Ministro, lunedì abbiamo parlato di più uomini e donne che ci aiutino a controllare, di più telecamere, ma se noi non riempiamo le strade di relazioni, se noi non facciamo che le strade sia lo spazio tra le case, e lo spazio tra i luoghi di incontro e di lavoro e ci sia questa forte permeabilità e la vita le renda sicure. Non possiamo pensare a una sicurezza fatta solo da chi controlla. La sicurezza vera ha bisogno di vita, di frequentazione, di spazi vivi che sono vissuti dalle persone perché si sentono sicuri e questo porta più sicurezza. E questo non è solo un compito del pubblico, ma è un compito che possiamo fare insieme. Il pubblico può e deve creare le condizioni perché ci sia questa azione proattiva dei soggetti vivi del corpo sociale che va da singolo cittadino e cittadini associati alle imprese e oggi abbiamo sempre più un mix che incrocia, perché sappiamo che una buona impresa ha bisogno delle risorse, ma ha bisogno di lavoratori, di cittadini, ma ha bisogno anche di fruitori, quindi è tutto strettamente collegato. Quindi certamente il nostro investimento come amministrazione è quello nel creare una maggiore presenza di uomini e donne attenti al rispetto delle regole, ma creare quelle condizioni perché questi luoghi siano il più possibile vissuti. L'altro giorno, ad esempio, eravamo noi in loggia dei mercanti a riflettere su come uno dei luoghi che abbiamo scoperto anche con recenti episodi insicuri e certamente abbiamo detto presenza di polizia, presenza di telecamera, eccetera, ma poi ci siamo detti se questo non diventa un luogo in cui i ragazzi che si trovano al McDonald's delle seconde generazioni sanno vivere e riconoscere uno spazio che ha una storia e noi non siamo capaci di creare quelle condizioni perché quello spazio viva e abbia delle azioni perché sia riconosciuta la storia di quello spazio e cosa comunica quello spazio ai giovani, ai giovani delle seconde generazioni e questo non può che essere fatto anche dalle imprese che investono lì e la stessa cosa si può fare, non so, per il quartiere San Siro o per il quartiere Quartogiano o per il quartiere Lorenteggio e Giambellino dove allora la capacità di creare un nuovo modo di abitare e un nuovo modo di fare cultura e di fare impresa, quello ad esempio che nel Lorenteggio vuol dire un buon mercato, eccetera, questo è fondamentale. Quindi noi stiamo pensando a dire come assessorato alla sicurezza dobbiamo sicuramente mettere il controllo ma poi lavorare molto in sinergia con gli altri colleghi e le altre direzioni per fare questo insieme perché non c'è un prima e un dopo, qualcuno dice prima devi avere le telecamere, no, c'è un essere contemporanei e nel agire in maniera sinergica e questo lo possiamo e lo dobbiamo fare insieme con i privati e il mondo del privato può anche aiutarci nel costruire queste condizioni, allora avere luoghi illuminati, luoghi vissuti, avere anche l'attenzione del privato, avere sicurezza e quindi non pensare più alla sicurezza come solo una cosa delle forze dell'ordine ci aiuta. Ma poi volevo sottolineare anche un altro aspetto che è quello di come il bello, la qualità degli spazi dà da solo una percezione di maggiore sicurezza perché il degrado passa anche attraverso appunto il modo in cui come i luoghi pubblici siano tenuti e i luoghi pubblici sono tenuti bene se c'è un'attenzione, un gusto del bello, un gusto della qualità e questo la storia di Milano, della nostra città, ci dice che il gusto della bellezza, dell'architettura è stato fatto da grandi personaggi investitori privati, mecenati che hanno messo risorse, intuizioni e qualità e questo dobbiamo tutti un po' imparare e dobbiamo ringraziare. Quindi l'investimento diretto, più uomini e donne, più tecnologia, più relazioni con chi investe nei quartieri e dialoga con alcuni mondi e chiudo nel dire che noi abbiamo tutti un debito col mondo giovanile dell'adolescenza e chiudo su questo. Sono l'età a cui abbiamo chiesto maggiori sacrifici in questi due anni perché tutti sappiamo siamo stati adolescenti e molti di noi hanno avuto degli adolescenti come padre o mare, abbiamo vissuto la nostra paternità o maternità nei confronti degli adolescenti e sappiamo quanto è delicata la relazione in quel contesto. E quindi noi abbiamo un debito nei loro confronti, sia perché stiamo usando risorse del futuro, sia perché dobbiamo ricostruire subito delle condizioni di relazione fisica fondamentale e quindi il lavorare sulla sicurezza e sull'investimento nella città è un modo per restituire ai nostri giovani, alle generazioni più giovani, quello che abbiamo fatto soffrire in questi due anni per vincere la pandemia e nelle risorse loro che stiamo utilizzando oggi per fare investimenti. Quindi qui io penso dobbiamo fare di più e anche il mio assessorato sta lavorando su questo per ricostruire questa relazione vincente con queste generazioni. Grazie.